Ciao a tutti, Tertana Nascoli si giocherà il 14 gennaio alle ore 20.30 allo Stadio Libero Librati sarà l'ultima giornata del girone di andata perché come tutti sapete è stata rinviata la partita che è nel programma il 26 di dicembre e si giocherà il 14 gennaio alle ore 20.30 liberati l'ultima giornata del girone di andata contro Nascoli mentre la partita con il Brescia si giocherà il 22 gennaio alle 14.00 le date dei recuperi delle partite contro Nascoli e Brescia per quanto riguarda la Ternana, la Ternana tornerà in capo il 2 gennaio, rinizierà gli allenamenti per preparare al meglio queste partite che ci aspettano a partire da quella dell'Ascoli e questo diciamo è per quanto riguarda il calcio giocato, poi c'è come sempre la Ternana solidale perché sono state fatte tante iniziative a tema natalizio, organizzate il pranzo di Natale che purtroppo è stato solo dal porto per il Covid al Duomo e sono stati consegnati i regali alle case famiglia per i bimbi eccetera eccetera quindi tante iniziative solidali di questa bellissima Ternana solidale poi per quanto riguarda la Ternana più in generale Diego Peralta è un giocatore che potrebbe essere in uscita sono notizie e voci di calcio mercato che iniziano a circolare e Peralta sarebbe un giocatore finito nel mirino del Foggia quindi c'è l'interesse del Foggia per Diego Peralta ma ovviamente sono decisioni che vengono prese in serie di mercato che se non mi ricordo male dovrebbe aprire tra pochissimo il 29 dicembre e poi la Ternana vince un derby quello primaverile perché la Ternana primavera comunque ha giocato ha giocato contro il Perugia e ha vinto per 2 a 1 quindi la Ternana primavera ha vinto il derby e la Ternana ha vinto comunque due derby quello primaverile e quello di calcio femminile contro il Perugia è pareggiato quello di prima squadra quello della nostra Ternana con l'episodio dubbio nel finale per il resto non ci resta altro che aspettare il 14 gennaio alle ore 20 e 30 qua da Liberati si riparte con il campionato di serie B con il pubblico o meno lo vedremo